La strategia nazionale per le aree interne, il rischio di essere emarginati e lo spopolamento. In sintonia con queste finalità si è parlato nel corso di un incontro organizzato dal Comune di Piedimonte-Matese, ma si è discusso soprattutto delle strategie da adottare anche in vista del recovery plan. Sono intervenuti autorevoli relatori sulle future strategie che questo territorio, già bocciato nel primo piano, dovrà adottare a presto per poter rientrare e non perdere una nuova occasione. Oltre al sindaco di Piedimonte-Matese-Civitillo e diversi comuni, erano presenti gli onorevoli Paolo Russo della Commissione Bilancio, Domenico Gambarotta, consigliere del ministro per il Sud Mara Carfagna, l'europarlamentare Aldo Patriciello e il deputato Carlo Sarro, che ci ha spiegato che cosa si può fare. È necessario valorizzare al massimo quelle che sono le opportunità del territorio, soprattutto delle aree interne, e il PNRR nella previsione relativa appunto alle risorse assegnate al mezzogiorno contempla una linea di finanziamento esclusivamente dedicata alle aree interne ed è su questa che noi dobbiamo puntare per lo sviluppo del nostro territorio. L'onorevole Aldo Patriciello, membro della Commissione Ambiente al Parlamento europeo, ha invece spiegato così la sua presenza a Piedimonte-Matese. Ma andando questa è una strategia per rilanciare le aree interne, che è una strategia europea, venita fuori con la programmazione 2019-2021, però adesso bisogna puntare la nuova strategia, per altre previste nei fondi dei recovery plan, fino al 2027. Le aree interne sono il cuore pulsante del nostro paese. È una strategia europea per evitare che ci sia questo spopolamento di piccoli comuni, delle zone disagiate, perché l'Italia, se togliamo le aree metropolitane, è fatta di aree interne, spesso abbandonate, dove i giovani vanno via, si perde di identità e sappiamo tutti che nelle aree interne c'è la parte più importante, la parte storica, culturale, le tradizioni, cioè sono il vero cuore pulsante del nostro sistema paese. E l'Europa su questo ha impegnato moltissimo, perché si vuole sensibilizzare, mettere insieme i comuni per fare una strategia unica. Sappiamo che da soli non si va da nessuna parte. Se i comuni riescono a superare quelle divergenze oppure quelle difficoltà del mettere insieme, sono convinti che riusciamo a dare forza, slancio e soprattutto di dare ai giovani la fiducia di rimanere legati al proprio territorio, chiaramente che è una prospettiva di lavoro. Caserta è in Tanti fuori? No, Caserta città, non è un'area interna. Provincia di Caserta? Noi parliamo delle aree interne, intese come i comuni che hanno un disagio sociale, un disagio territoriale e il concetto dell'area interna è quello, sono i comuni che non fanno parte delle aree metropolitane. Allora l'attenzione è anche in quelle zone. L'area del Matese è una delle zone che rientra benissimo in questa strategia su cui stiamo lavorando tra il Ministero della Coesione, chiaramente i comuni, le aree interne, cerchiamo tutti insieme di dare uno slancio e sensibilizzare l'istituzione a fare presto e a fare bene. Da Piedimonte e Matese è tutto, Lorenzo Applauso per CasertaSera.it Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.